E' sempre più provata Maisona Magidi, l'attivista kurdo-iraniana detenuta nel carcere di Castrovillari con l'accusa di essere una scafista. La prossima udienza con giudizio immediato si terrà il 24 luglio e sancirà per Magidi l'inizio del processo vero e proprio. Ed è per questo che il consigliere regionale Ferdinando Laghi è tornato a farle visita dopo che qualche tempo fa aveva iniziato, ora sospesso, lo sciopero della fame. Io sono tornato soprattutto per questo perché ero preoccupato e sono preoccupato. Lei è trattata benissimo qui a Castrovillari ma comunque adesso pesa 39 kg, ha difficoltà ad alimentarsi anche se non è in sciopero della fame. Ma soprattutto quello che mi ha colpito è la situazione di ansia, depressione che la caratterizza attualmente ancora e abbastanza di più delle altre due volte in cui ci siamo incontrati. Lei continua a chiedersi perché dopo aver fatto questo viaggio pericoloso per fuggire da un paese che la opprimeva e in cui rischiava di avere delle sanzioni durissime in quanto regista e attivista soprattutto dei diritti delle donne e dei diritti umani, arriva in un paese dove pensava di trovare la libertà e si trova incriminata per un crimine abbastanza infamante che è quello di essere una scafista che per la verità senza voler mettere il carro davanti ai buoi non è che ci stia tanto sulla sua storia personale ma anche familiare. Il papà è un professore universitario che ha scritto tanti libri, lei si è occupata sempre di attività di promozione sociale per cui l'hanno costretta a fuggire pagando fior di danari. Questi aspetti forse mal si coniugano con l'ipotesi che possa essere una scafista però come dicevo aspetteremo adesso il giudizio della magistratura.